Signorotti, ma vi sono mancato su Minecraft? Quanto vi sono mancato su Minecraft? Me lo lasciate un bel mi piace? Tra l'altro, mi sono accorto una cosa che devo togliere questo filtro qui, se non erro. Allora ragazzi, e tu siamo rimasti? Non lo so, ma calcolate che io non è che non ho pubblicato Minecraft perché mi ero rotto, raga, me sono operato. Oggi mi sono messo a fare tre video di Fortnite, se riesco faccio un video di Minecraft, tornerà anche Rainbow Six, raga, ma me dovete dare un po' di tempo. Allora, spero che intanto lasciate un bel pollicione in su perché io mi ricordo che stiamo dentro la grotta a cercare i lapispazzoli, slizzoli, io mi ricordo una cosa del genere, magari vi posso sbagliare, ma non... Mamma mia, poi tra l'altro, adesso io non voglio dire, mi ricordo che stiamo sotto un attacco mob, gigante, 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 i lapisprazzoli li abbiamo trovati. Questa cosa mi rende molto contento, quindi sempre con calma, perché sempre con calma, perché non ci abbiamo fretta, i ragazzi vogliono che la serie va bene, che ci divertiamo. Ok, perché qui c'è roba da... da ammazzare, raga, eh. C'ho... forse... Mamma mia, ma quello che brilla... Quello che brilla perché? Scusatemi. Scusatemi se... Ma io là sotto, ragazzi, avrò delle problematiche... Ad arrivarci veramente... Veramente notevoli. Tra l'altro io spero che voi abbiate segnato... Che abbiate segnato... Bro, se tu vieni qua ti faccio fuori. Come mi hai colpito? Ma non ti vergogni? Una carota! Che fortunati che siamo... Ehi, che hitbox hai? Ok, però io vorrei la carota. Minchia, siamo pieni. Siamo... Pieni di roba. E... Facciamo così. Ah, possiamo fare davvero quella per cavalcare i maiali... Se non erro, no? Allora, perché io poi... Non vorrei che mi cascassero da sopra, raga... Mob strani e dove trovarli. E quello è il problema. Perché io sono troppo curioso... Adesso... Di... Miseria... Di andare lì sotto. Sono veramente tanto, 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 tanto curioso. Penso che ci sia l'inferno, eh. Ok. Ragazzi, io... Ma... Ma... Raga... Cioè, capite che... È una roba... Fuori di senso. Io potrei fare... Una cosa molto divertente. Non so se... È un'idea che vi aggrada questa. Io mi aspetto un bel po' di like, eh. Io mi aspetto... Un bel po' di mi piace in questo momento. Dico la verità, eh. Quello ha... Provato a sopravvivere. Quindi... Sempre con... Grandissima calma. Ma... Questo... Mi sta... Dando molto fastidio. Bello. Caccio, mi ha buttato di sotto, raga. Mi ha buttato di sotto, raga. Incredibile. Secondo voi, perché c'era... Tutta sta gente? Poi c'era quel coso luminoso, no? Questo qua. Io l'uccido. È cambiato qualcosa? Quello non lo so. Quello sono curioso. Quello me lo direte voi. Sono molto curioso del risultato. Però dovete ammettere che ho avuto un'idea molto brillante, eh. Molto, molto brillante. Io non capisco perché ci sono così tanti mob. Veramente, sono tantissimi. C'era pure un maledetto... Loro non ci serve, giusto? Però io probabilmente devo fare di questo. Voglio... Provare... Voglio provare... Ad andare più sotto possibile. Ah, eccolo. È quello là di prima. È quello là di prima. Dovrebbe essere quello che è salvato. Bro. 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 No, 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 no. Una volta mi avresti ucciso... Diciamoci... La verità. Forse ho visto i diamanti. Forse. Mamma mia, ragazzi. Di che stiamo parlando? Del niente? Del niente, vero? Bene. 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 Siete che faccio? Faccio... Così. Eh, mo' sono rimasto con queste cose. Ok. Allora, fatemi fare questo. Ma non posso mangiare la patata. Bro, che stai facendo? Con la roccia? Non fare il maleducato, per cortesia, eh. Perché qua... Vabbè, dai, sentite. Abbiate pazienza. Solamente due diamanti, però. Mamma mia, regà. Qua se qualcuno mi passa dietro e mi fa fa un volo... Vado dritto, dritto nel gulag più eterno, regà. E diventa una cosa orribile. Questa spedizione sembra già molto interessante. Non so che cosa ne pensate. Mi è mancato giocare a Minecraft, eh. Che poi sì, io faccio Minecraft... Abbastanza sereno, no? Però... Neanche troppo. Preferisco... Eh, niente. Qui è chiuso. Già incomincio ad avere... Eh... Necessità di... Ehm... Mamma mia, ragazzi. A me sta roba mi spaventa un botto. Vi dico la verità. Sta roba qua mi spaventa tantissimo. Questi scanini. Arriva uno da dietro, ti... Ti... Ti spappola vivo. Mamma mia, mamma mia. Fatemi fa... Una mezza scala, una mezza roba. Assolutamente. Oh, quella mossa lì non me la sarei mai aspettata da me, eh. Quella col secchio della lava. Tanta, tanta, tanta roba. Ok. Come stiamo messi qua? Stiamo messi male, mi... Stiamo messi male. Io mi posso anche tuffare... Un peletto. Secondo me, no? Ok. Qua è chiuso. Purtroppo. Speriamo di non trovare... Una parte troppo chiusa. Ok. Mamma mia, raga. Mamma mia, ragazzi. Sentite, ma il ferro... Non mi ricordo se ci serviva. Sì, ce l'abbiamo. Ma è diventato tutto... Fin... Troppo... Tranquillo per me. Non so voi che cosa ne pensate. Voi rimanete sempre con gli occhi aperti che metti caso... Trovassimo qualcosa di interessante. Me lo dovete dire. Ok. Non ho paura. Assolutamente. Come sta lo scudo? Ancora sta messo bene. Questi non credo che siano i lapisprazzoli. Però me li porto a casa. Non si sa mai. Questi sono quelli là che fanno da conduttore, no? Se non erro. Sono i conduttori che ci potrebbero essere utili. Loro... Mi aveva detto che non è così utile. Quindi io... Bypasserei, no? Questo sì. Assolutamente. Raga, scusate ma sapete che io... Mi concentro... Perché siamo in hardcore, no? E non mi va proprio di... Schiattare. Io mi ricordo una volta che i pipistrelli facevano danno. Non so perché ma c'ho sto... Vagissimo ricordo. Ah, pensa là c'è una torcia. Sicuramente mia. 100-100. Fatemi... Oh... God. Oh mamma mia. Oh porcaccia la miseriaccia raga. Facciamo decisamente così. Ci prendiamo questo. Uh... Uh... Quattro diamanti probabilmente. Cinque... Ma... Sei... Quanti diamanti? Mica lo so. Che filone di diamanti pazzesco raga. Ce ne avevamo due. Mo ce ne avevo otto. Quindi sei. Non male. Non male direi. Non male. Che botta di fortuna. GG per noi. GG per noi. Eh, siamo proprio messi nella parte quella giusta dei diamanti. No, l'altezza. Eh... Mi vado a prendere questa roba qua. Poi mi avete detto che devo costruire tutte le librerie intorno al coso per farlo diventare sempre più potente. E via discorrendo. Ah, questa è semplicemente la parte... Quella... Quello... Ragazzi. Ragazzi. Io non so che cosa è successo oggi a Minecraft. Quindi due. Ok. Quindi altri cinque. Se non erro. Uuuuuh. Gara. Bene. Bene. Porca miseria ragazzi. Porca miseria ragazzi. Ma di che stiamo parlando raga? Quattordici diamanti. Quattordici diamanti. Ragazzi. Sono tantissimi quattordici diamanti. Ma facciamo così, facciamo così. Ci facciamo un bel po' di torce. Ce ne mettiamo qua. E questo ritorniamo qua. Così siamo un po' più safe, no? Leggermente. Da mangiare ancora ce l'abbiamo. Ma calcolate che... Già con la run che stiamo... Facendo in questo momento... Non vi dico che siamo soddisfatti. De più. Il problema è che io già mi sento voi che mi dite... C. Bravissimo. Hai trovato i diamanti. Ma calcola che stai troppo basso per trovare i lapis blappoli. Ne sono abbastanza convinto. Sapete? Ho questa... Questa sensazione. Vabbè che abbiamo 45 lapis palazzoli? Che non è che mi sembrano pochi, eh? Non è che mi sembrano pochi questi lapis prazzoli. Allora. Lasciamo di questo. Ci prendiamo un po' di questo. Madonna, quell'attacco mob di prima, raga, è stato... Boh, una... Una cosa pazzesca. Ok, quindi qua... Ragazzi, stiamo tranquilli. Ripeto, poi mi dovrete... Mi scrivete le coordinate sotto questo video qua, per favore. E sarà anche interessante... Ritornare alle nostre coordinate. E tra l'altro, oltre quello... Se mi scrivete anche il tasto per aprire le coordinate. Che... Come potete immaginare... Non me lo ricordo. Eh... Non me lo ricordo. Che dobbiamo fa' qua? Niente. Fatemi fa' una scaletta per di qua, va? Vabbè, non è che... È esatto. Faccio prima a fa' così. Me mangio... Una cotolettina dei maiali. Intanto controllo che in giro non ci siano diamanti... Di nessun tipo. Qua sotto è interessante. Molto molto bello. Però non ci sta... Niente di... Incredibile. Nessuna struttura. Non abbiamo trovato niente per il momento. Quindi... Provo a ritornare qua. Speriamo che non si chiude, raga. Ma secondo me si chiude. Altri di questi? Quasi finito. Quasi finito. Ok. Sento dei mob. Oh, 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 oh. Piccolini miei. Mamma mia, raga. Uno solo? Ci può stare, eh. Dopo tutto quello che abbiamo trovato prima, raga. Ci sta, eh. Ci può stare, ci può stare, ci può stare. Ci può stare. Decisamente. Sto vedendo... Se ci può servire qualcos'altro. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così che si ributto. E mi prendo un po' di roccetta che secondo me... Male non ci fa. Questo posto non è fantastico, eh. Ok. Ok, perfetto. Con calma, con calma, con calma. Mirchetto. Sì, perché non credo proprio di trovare i lapis prazzoli. Sempre con calma. Sempre con calma, Mirchetto. Non mi sto soffermando troppo al ferro, eh. Sicuramente ve ne siete accorti. Io, mano a mano, vorrei provare... A risalire... Come si rompe questo? È sempre così. Queste formazioni sono fighissime. Sono fighe, sono fighe, sono fighe. Mamma mia. Regà, ma di che parliamo? Vado un attimo sotto per vedere un secondo... Regà, sembra che ci ho messi i diamanti davvero. Vabbè, un altro... Un altro singolo, eh. Un po' uno scam. Vabbè, nel senso... Sempre meglio trovarlo che non trovarlo. Ok. Ok. Regà, ma vi è mai capitato di trovare così tanti diamanti? Ti chiedo, eh. Due... Tre... Quattro... Cinque... Sei... Sette... Otto! Regà, ventiquattro diamanti! Mamma mia. Ventiquattro diamanti, regà. Strano qui. Un po' stranino, eh. Ok. Ok. Essa è chiusa. Che per assurdo... Mi può quasi star bene, sapete? Ventiquattro diamanti, regà. Sono... Penso un'enormità. 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 Ma veramente sono tanti, 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 tanti. O l'hanno cambiati che se ne trovano di più. Perché all'epoca quando fu, regà, non è che se ne trovavano... Così tanti, eh. Ok. Allora. Qua è chiuso. Quindi o proviamo... A fare un tunnel. Niente tunnel. Ce l'abbiamo fatta... Abbastanza celermente a... Bro, guarda. Ti faccio la scaletta. Che cazzo è una strega, vè? Sì, lo so, ma... Ok. È morta. Perfetto. Sentite, io... Io non so voi che cosa ne pensate. Sta merdosa. Non mi aspettavo di trovare una strega qua, eh. Eh, sì, sì. Eeeh... Dove sei? No, non mi muore, ragazzi. Ragazzi, non mi muore. Eh, bastarda. Guarda. Oh, è morta. Via, 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 via. Mamma mia, raga. Io ho preso... Ho mangiato la mela quella super incredibile. Ci può stare. Però ho preferito così, raga. Ho preferito decisamente così. Io già sto pronto a mangiarne un'altra, ve lo dico, eh. Sto già pronto a mangiarne un'altra. Non conosco l'effetto e non conosco quando passa. Quindi... Mamma mia, raga. Quanti cuori ti toglie? Un botto. Ti toglie un botto di cuori, raga. Ve voglio bene. Al prossimo appuntamento, ciao.